Noi dobbiamo lavorare per far tornare gli insegnanti a pensare che il loro mestiere è il mestiere più bello del mondo. Per me lo è stato in questi anni. Ho imparato, tra le tante cose che ho imparato, che quello è il mestiere più bello del mondo. Il mestiere dell'insegnante, l'istruzione. Però deve essere il mestiere più bello del mondo non come lo stiamo gestendo e con le modalità con cui invece non diamo quest'idea. Deve essere il mestiere più bello del mondo anche per dare l'idea a un giovane che può farlo, che può essere quello che lui vuol fare. Noi dobbiamo essere il partito dei giovani.